Vodafone Wallet Buongiorno a tutti, sono Francesca e oggi parliamo di Vodafone Wallet, l'applicazione Vodafone che ti permette di avere tutte le tue carte a portata di smartphone. Con Vodafone Wallet potrai associare le tue carte di pagamento, fedeltà, coupon, biglietti dai trasporti, documenti di identità e molto altro. Con Vodafone Wallet cambia il tuo modo di fare gli acquisti. Inizia a pagare direttamente dal tuo smartphone. Vediamo che cosa ci serve. Uno smartphone NFC, in questo caso stiamo utilizzando l'S5 Gold, che è il primo device wallet ready. Per essere sempre aggiornato sulla lista dei modelli compatibili, consulta il sito wallet.vodafone.it. Una SIM 4G NFC, le SIM Vodafone di ultima generazione, che riusciamo a contraddistinguere dalle ondine, il simbolo del contactless. L'applicazione Vodafone Wallet e la prima carta che entra in Vodafone Wallet è la Vodafone Smartpass, la carta prepagata a Vodafone per tutti gli acquisti. Vediamo come fare. Dopo aver scaricato l'applicazione Vodafone Wallet, la configuriamo con un codice di accesso e un indirizzo di mail valido. Aggiungiamo Vodafone Smartpass cliccando Registra carta per abilitare la carta all'utilizzo. Ricordiamoci durante questa operazione di avere con noi le credenziali di accesso al Vodafone.it e Vodafone Smartpass. Ci verrà richiesto di inserire il CV2 della carta che si trova sul retro. Una volta completata la registrazione, i dati della carta verranno memorizzati in maniera protetta e sicura sulla SIM 4G NFC. Al termine dell'attività riceveremo un SMS di conferma con un link per scaricare Smartpass NFC, l'applicazione per tenere sotto controllo i nostri acquisti e gestire la carta. Non ci resta che provare, andiamo a fare un pagamento. Buongiorno, vorrei una pizza Margherita. Sì. Pago con lo smartphone. Ok. Pagare con lo smartphone è semplice e veloce. Basta cliccare il bottone paga dall'applicazione Vodafone Wallet oppure dalla Smartpass NFC. Avvicino il telefono al post. Ecco il bip. Ho già pagato. Qui l'importo della transazione, la data e l'ora, direttamente sul nostro smartphone. Ora mi posso gustare la pizza. Qui l'importo della transazione, la data e l'ora, direttamente sul nostro smartphone. Qui l'importo della transazione, la data e l'ora, direttamente sul nostro smartphone. Qui l'importo della transazione, la data e l'ora, direttamente sul nostro smartphone. Qui l'importo della transazione, la data e l'ora, direttamente sul nostro smartphone.